Grazie a tutti Non le porta DNA Music vi segue da tempo Devo dire vi stima anche da altrettanto tempo Dal 2004 c'è stato un colpo di fulmine fra noi e voi E voi cosa ne pensate di questo figlio di DNA Music che è il Sir? Vai! Oda Alessandro Oda Alessandro Allora sicuramente interessante per il fatto che insomma Diciamo da uno spazio a chi non Chi non poteva insomma averlo prima Diciamo che è figo il fatto che si collabora molto tra riviste Comunque sempre indipendenti Giornali anche radio insomma online A noi ci piace molto Voi altri ragazzi? Parliamo del Sir? Sì Il spazio indipendente romano è una manifestazione a detta nostra interessante In quanto è un punto d'incontro estivo Che a Roma Cioè come altri che ce ne sono a Roma Dove Però è Ostia Che è Roma Che è Roma Ostia è Roma Dove band di vario genere, varie situazioni o comunque originale Si possono confrontare o comunque conoscere anche Collaborare E dine l'altro Amare 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 Quindi amiamoci tutti al Sir Grazie Come a bene amici Noi vi amiamo Anche noi Anche noi Anche noi Ciao grazie Ciao DNA Music Ciao grazie Grazie